macchina che si muove, è l'ultima del San Paolo, ci sono problemi per Ontario R che rimane indietro e siamo partiti al San Paolo, a sorpresa Orazio Deymar la prende giusta, all'esterno c'è Nicky Van poi Notiz Petit, Orazio Deymar al comando, Nicky Van che va a insistere su Orazio Deymar quando ci sono 200 di gara con Nicky Van che spinge su Orazio Deymar che vorrebbe farsi scavalcare terzo è Notiz Petit davanti al numero 1 di Indianapolis Trio e poi Manzoni SLM partenza un po' sorpresa, i primi 400 in 28 e 2 per Nicky Van con Orazio Deymar che guarda già a destra Gennaro Pacileo vorrebbe forse fare lo scambio, anche se Nicky Van per il momento è al comando e sembra volerci restare, i cavalli adesso sono dopo 600 in 44 e così è, Nicky Van al comando, Orazio Deymar lì sotto, poi Notiz Petit che viene prima di Indianapolis Trio, Manzoni SLM 800-59-8, non c'è nessuno che muove, probabilmente sarà costretto Manzoni SLM a questo punto con Nicky Van che comunque guida, di solito corre sotto Nicky Van, stavolta se la fa al comando 1-15-4, il primo a spostare è Indianapolis Trio perché Notiz Petit è già in difficoltà come l'ultima volta e così questi offre la schiena a Manzoni SLM, Orazio Deymar rimane lì quando i cavalli attaccano l'ultima curva, un parziale in 15 e mezzo per Nicky Van che ha il compagno di colori Indianapolis Trio a largo, poi Orazio Deymar lì sotto, Manzoni SLM che guarda la terza ruota quando i cavalli escono dalla curva con Nicky Van al comando, Manzoni SLM che sembra la prima minaccia poi lì dentro anche Orazio Deymar, Nicky Van che cerca di difendersi dall'arrivo di Manzoni SLM che finisce molto forte, Manzoni che va su Nicky Van e lo stampa, mentre arriva all'esterno anche Ola Laster Light che mette tutto in discussione per le piazze, alla comando Nicky Van che nel finale cala e arriva Manzoni SLM che va a far valere la sua velocità nell'arrivo finale con il numero 6 di Manzoni SLM alla palo, per il secondo è all'esterno la Laster Light, mentre per il terzo vediamo, forse all'interno Orazio Deymar, no, foto stretta tra Orazio Deymar e Nicky Van forse ancora Nicky Van, foto strettissima, non si può dire, 6-8, 7 o 6-8, 5 per l'ultima dell'Ele San Paolo, l'ordine d'arrivo è questo, ci vediamo con le corse martedì, ci sarà la Triss, buona serata a tutti.